clicco qui mi fa vedere per vedere se gratta e vinci è vincente oppure no vado? eh sì bene, questa è l'applicazione gratta e vinci, verifica ora il biglietto clicco qui e tu vai su ecco, andiamo un po' il biglietto non è vincente e ti dà anche numerissimi, numero 034 che c'è, vedi 038 ce la faccio in me piange però bella questa insomma, la sorpresa finale eh sì, io che piango, sono quello quando magari ti rendi conto di aver perso però speri su questa applicazione ma perché non mi hanno fatto vincere, porca puttana ecco comunque ho perso, bene andiamo a giocare non c'è niente da fare si va a giocare andiamo a giocare già fa un bigliettino va bene, a posto